buonasera e bentornati a casa piace la commissione per il piace dal piace col piace e sempre di più sempre più bianco rossa bianco rossi fino al midollo buonasera siamo tornati dopo una settimana appunto che ci aspettavamo questa settimana ovviamente gli argomenti da parlare sono tantissimi ma non dobbiamo sicuramente anticiparvi niente noi però vi anticipo subito chi sarà il mio compagno di viaggio anche se lo conoscete benissimo ormai andrea morini ciao andrea ciao nick e grazie come sempre per l'invito vengo molto volentieri andrea per iniziare con il nostro primo ospite facciamo un sunto di quanto è successo nell'ultima partita di campionato direi così ragguagliamo i nostri tifosi perché comunque non avessi seguito il turno sì è un piacenza in calo però c'è stata secondo me rispetto alla partita precedente persa in casa in malo modo una risposta di intensità di agonismo della squadra giusta in questo momento però la squadra non ha quella brillantezza non ha quella particolarità quella qualità di calcio che aveva fino a tre settimane fa nel in un periodo ci stanno durante un anno ci sta che ci siano dei periodi eh di difficoltà secondo me molto è anche legato al fatto che ci dimentichiamo troppo spesso che siamo senza allenatore da più di 30 giorni o comunque siamo stati senza allenatore ad allenare per più di 30 giorni e insomma o non valeva niente l'allenatore oppure conta quindi eh siccome l'allenatore conta e molto direi che in questo momento si manca proprio l'allenamento durante la settimana fatta da allenatore questa è la mia situazione. E proprio per questo allora chiamiamo subito in casa il nostro primo ospite il direttore generale del club Marco Sciano. Marco buonasera e ben ritornato. Buonasera a voi grazie dell'invito. Partiamo subito da questa prima discussione che ha fatto Andrea quanto ci è mancato il mister e quanto è il peso specifico di non avere l'allenatore in panchina per così tanto tempo. Ma è in dubbio che una squadra che sta per quasi 40 giorni senza il proprio allenatore e interrompendo un certo tipo di percorso di crescita di di cose buone che stava anche creando è un qualcosa di atipico. Dico sempre che non è successo che il nostro mister fosse squalificato quindi eh seguisse le partite da dalla tribuna e durante la settimana potesse allenare ma è è stato relegato a casa in situazioni molto anche diciamo difficili come in qualche modo ha voluto lui confessare comunque eh svelare e questo secondo me è un contraccolpo enorme che magari nelle prime partite ci ha dato quella energia quel brio quella motivazione di andare di butti di gettare l'anima il cuore oltre l'ostacolo poi nel nel medio termine nel lungo termine è diventato un un grande minus questo è evidente eh che l'abbiamo patito lo stiamo patendo e sappiamo che dobbiamo affrontare una stagione che ha dentro di sé tantissime difficoltà lo hanno anche le altre squadre quindi non ci celiamo dietro nessun tipo di alibi ma è evidente che eh l'intensità la frequenza il momento storico in cui tu le hai determina molto molto e per noi è stato un percorso che in qualche modo stava crescendo e si è bruscamente interrotto ecco riprendere da dove eh da dove si era interrotto non è secondo me così scontato e semplice da fare ecco mi viene in mente da fare una domanda a questo punto parlando proprio di questo tema eh è innegabile dire che questo è un campionato veramente strano non soprattutto per la situazione che stiamo vivendo ci sono squadre che improvvisamente non possono giocare guardiamo ad esempio della Giana contro di noi appunto pochi pochi due turni fa di campionato quanto pesa prima di tutto come prima domanda questi imprevisti al nel bilancio totale di un campionato e soprattutto chiedo a te che sei stato forte esponente di dire che questo campionato non si deve fermare perché a questo punto gli anni sarebbero molti più che i benefici nel fermare il campionato adesso ti chiedo qual è ancora oggi il il motivo per continuare questo campionato che sicuramente ha motivi di interesse dobbiamo portarlo avanti per quanto stiamo facendo ma quanto è difficile per la nostra città mandare avanti un campionato in queste condizioni ma è difficilissimo perché e qui devo fare un plauso chiaramente a tutta la nostra struttura a Paolo Porcari, Beatrice Lusignani, Francesco Fiorani, Francesco Guareschi, lo stesso Simone Di Battista e tutte le persone che collaborano lavorano per il Piacenza e Calcio dietro le quinte perché eh l'imprevisto dietro dietro l'angolo siamo penso diventati migliori amici dell'ASA di Piacenza e colgo sempre l'occasione per ringraziarli perché siamo frequentemente lì eh è chiaro che che secondo me oggi purtroppo non dobbiamo essere noi a scegliere di fermarci ma deve essere eh il virus oppure il governo con opportuni ammortizzatori che oggi non esistono perché chiaramente sappiamo bene che ci sono tante altre categorie che in questo momento stanno soffrendo anche più del calcio e il nostro compito è quello di andare avanti e cercare di e bisogna avere anche un bel po' di fortuna perché chiaramente eh quando si accanisce il covid bisogna essere fortunati che non si accanisce su tutta la rosa su quei giocatori che magari stavano meglio eh insomma le le variabili sono l'ordine del giorno questa è una stagione fuori la logica fuori eh come dire logica normale io ho vissuto gli anni della serie C anche i primi anni non c'è nulla di da poter paragonare in una stagione normale iniziata tardi eh si svilupperà con tante complicazioni soprattutto non sappiamo quello che abbiamo davanti avremo ancora eh un momento di pausa andremo avanti normalmente dovremo allungare la stagione eh in tutto questo chiaramente una squadra giovane come la nostra che deve trovare tanti punti di riferimento certezze costruirsi e ha tantissimi ostacoli quindi il nostro obiettivo salvezza secondo me varrà ancora più di quello di quello che semplicemente la parola dice Andrea c'è una domanda Sì più che una domanda è un'osservazione che volevo condividere è chiaro che questo è un campionato non paragonabile con nulla e quindi difenda anche eh complicato riuscire da parte di noi addetti ai lavori e fare delle analisi perché puntualmente ogni domenica sono cambiano cioè tu vai a casa dell'eco che è fra le prime forze e vinci 4-2 ma dando una dimostrazione di forza che è clamorosa perché c'è una differenza in campo fino a un certo punto molto importante e poi dopo perdi tre a zero in casa contro un avversario che non ha la qualità dell'eco quindi questo per dire che è difficile è chiaro però che abbiamo eh comunque per adesso valutato alcune cose alcune cose sono io e Marco di questo ne abbiamo già parlato una squadra che crea una squadra che trova gol più con esterni perché è questa la parola su cui io e lui ci siamo trovati ehm diciamo a a parlare proprio più su giocatori offensivi che su proprio una vera punta è una squadra che crea molto però non riesce a mettere in condizioni la sua punta centrale che ne hanno così di far gol questo è potrebbe essere un problema abbiamo tanti giocatori giovani lì che devono crescere può essere un problema di colpo può anche sbloccarsi ecco credo che una di queste analisi sia abbastanza certa e l'abbiamo vista dall'inizio è un limite della squadra tutte le squadre hanno dei limiti noi l'abbiamo lì eh tu come pensi che si possa risolvere anche se non sei un tecnico ovviamente eh in questa cosa beh è evidente che noi i nostri gol li abbiamo trovati sugli esterni forse era già anche l'inizio della stagione un ragionamento che l'allenatore comunque anche il direttore in fase di costruzione sapeva che doveva chiedere molto ai nostri esterni e poi purtroppo mettiamoci dentro che anche il ruolo della punta centrale abbiamo avuto dei giocatori che non abbiamo praticamente visto perché tra infortuni covid prolungati parlo di Maio parlo lo stesso Siani quindi diventa difficile diventa difficile giudicarli oggi eh direi che dobbiamo molto lavorare sulla fase difensiva perché probabilmente prendiamo troppi gol poi senza si parla sempre di sport di squadra quindi il gol arriva da magari un lavoro non positivo del centrocampo eh che poi si ribalta sui difensori cioè non è solo il l'errore del gesto semplice del del difensore del portiere perché ridurremmo allora tutto molto semplicemente a quello poi magari in certi casi può essere stato così in altri casi è frutto un po' di errori che si sommano e quindi per rispondere alla tua domanda abbiamo dei giocatori abbiamo metto in condizioni di poter rendere e di essere giudicati chiaramente Maio è un giocatore che volevamo vedere e avere un giudizio novembre compiuto oggi tra agosto eh tra l'infortunio di settembre e tra il covid attualmente è un giocatore che non possiamo valutare minimamente valutare Maritato è un giocatore che avrà bisogno di di giocare con continuità magari già dall'inizio e Siani è un altro giocatore che tra infortuni e altri tipi di problemi non ha trovato spazio quindi speriamo che in questo diciamo mese e mezzo mese mese e mezzo mese e una settimana che ci porta la pausa di Natale se così sarà svolto il campionato ci aspettiamo da questi giocatori quel qualcosa in più e dietro dobbiamo sicuramente lavorare per essere per prendere meno golle essere più compatti in quello che oggi poi può essere può essere un problema perché la serie C l'abbiamo la conosciamo tutti no? L'avete vista anche voi è più importante per certi versi non prenderlo il gol che poi in qualche maniera probabilmente il gol lo riesci anche a concretizzare quindi eh dobbiamo lavorare molto dobbiamo lavorare tanto e ripeto la mancanza dell'allenatore non perché ci vogliamo nascondere dietro questa cosa ma è evidente che non non si può pensare nonostante il grandissimo lavoro di Lunardone di tutto lo staff di eh tamponare a all'infinito senza una meta questo problema ma anche perché evidentemente è molto chiaro che ormai le squadre ehm tu che vieni dal mondo del basket si parla di scoutizzare no adesso lo lo illustriamo eh questo termine anche gli avanti del calcio cioè praticamente le squadre vengono analizzate in tutte le singole caratteristiche e le squadre avversarie nella settimana dopo si preparano in quel modo per cui tutte le squadre devono cercare di apportare qualcosa di diverso strada facendo per fare in modo che non siano così leggibili la mancanza dell'allenatore eh anche questo anche per questo rappresenta un problema cioè è un Piacenza che non può provare cose nuove o fa più fatica non è che non può provare e soprattutto certi tipi di ragazzi possono eh crescere di più con l'allenatore che gli possa dire durante l'allenamento che tipo di atteggiamento avere quindi questi sono due limiti infatti la squadra adesso si vede che è ehm fermata nel senso che gli avversari sanno già come gioca hanno già le contromisure e noi fatichiamo un po' dal punto di vista diciamo del piano B ma sono tutte cose che si mettono a posto con un allenatore presente ecco purtroppo sicuramente sicuramente hai detto una cosa verissima perché comunque il calcio si è evoluto è diventato anche molto più statistico quindi i numeri li leggiamo noi come i nostri con i nostri avversari e è centrato è centrato il clou eh abbiamo dei giocatori abbiamo una squadra molto giovane che un po' era figlio del di quello che vogliamo fare se conosce di quello che sappiamo che è la difficoltà quindi nessuno ormai la Serie C fatemelo dire che la conosciamo quindi eh l'abbiamo affrontata in tutte le salse il primo anno per salvarsi il secondo anno per costruire il terzo anno per provare a vincere l'anno scorso per riprovare ormai la conosciamo personalmente mi direi che la conosciamo eh si fa quello che è il momento storico che bisogna fare quindi è molto contestualizzata la cosa eh abbiamo un nucleo di tanti giovani ognuno di questi verrà valutato verrà eh come dire attentamente messo messo la prova sicuramente in questo momento stanno giocando magari più giovani rispetto ad altri la linea si si tira direi in un momento no di eh di 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 pausa e dopo un po' di partite chiaramente giocare così poco se pensiamo che siamo fine novembre abbiamo giocato dieci partite eh insomma non è non è non è non è facile tirare delle conclusioni perché tutti i giocatori che oggi devono entrare in campo gli è richiesto di farsi trovare pronti alla prima presenza alla prima occasione ecco devo leggere un po' di commenti che ci sono arrivati intanto saluti Leo Catadori che sarà presentissimo ti saluta Marco Roberto Ronda dice forza e coraggio speriamo anche un po' di fortuna la città è con voi sì Roberto speriamo anche noi Giuseppe Ferrari forza magico piace Leo Catadori la squadra gioca molto bene ma il problema più grande è il bomber che abbiamo anche già risposto anche qui Andrea Piva fa un caro saluto a Marco Andrea se avrebbe un po' di continuità Andrea ciao saluto io ti saluto non mi hai salutato ma ti saluto anch'io Davide domanda sui giovani che hai appena fatto ti abbiamo appena risposto dice che Armando sta facendo una grande impresa Fabrizio Giarrifumagalli coraggio ci toglieremo diverse soddisfazioni eh Leo dice anche se hai visto in casa cosa mancava giocavamo contro la propatria abbiamo preso tre gol Leo però è anche vero che contro la propatria sia un tre a zero però però fammi dire Nicolò sono tutte cose vere quelle che stanno dicendo leggo anch'io i tifosi che interviene mi ha colpito la partita con la propatria purtroppo voi tifosi non eravate presenti ma ho questo flash molto particolare era squalificato Iavorcic però era in tribuna era in tribuna e più o meno in maniera lecita urlava i suoi vedendo qualcosa il nostro allenatore era a casa e guardava con due minuti di ritardo la partita perché su 11 sport la partita è in ritardo di due minuti quindi è evidente che è difficile è difficilissimo condurre una squadra giovane che sicuramente può avere dei delle lacune o dei punti deboli ma francamente sto guardando tantissime partite e francamente tutti le hanno e il nostro nel nostro processo di crescita questo è è un qualcosa che speriamo riusciamo a risolvere in forma definitiva e soprattutto ripeto a riprendere dal punto di pare perché qua ogni volta c'è un incognita come ha detto qualcuno recentemente le formazioni telefa telefa il covit e spesso non te le fa quello che vedi in settimana o l'allenatore o le scelte che si fanno si fanno poi sicuramente una squadra che ha corso tanto come penso hai evidenzato anche tu andrea e un po di fiato un po di storicamente il mese di novembre al piacenza cazzo dalla mia memoria storica da nove anni a questa parte non è mai stato forse parte un anno un anno molto brillante un mese scusate molto brillante ecco marco scusa se intervengo ancora ragioniamo anche in un'ottica futuribile abbiamo detto è molto complicato riuscire a farlo perché giochi un po' sì un po' no non riesce a far giocare giocatori che vorresti far giocare quindi a fare anche delle analisi è complicato però è chiaro che una società come il piacenza ma come qualsiasi altro ma in questo caso non interessa quella bianco rossa deve stare attento anche quello che può succedere al mercato di gennaio perché è chiaro che ci possono essere dei correttivi ecco con che logica il piacenza calcio da te diretto può andare sul mercato di gennaio secondo te ma innanzitutto quelle che abbiamo ancora da giocare parecchie partite come come sapete poi avremo due che saranno a gennaio ripeto compatibilmente con il lo sviluppo regolare del campionato perché questo potrebbe cambiare molte cose sono molti punti che sono in palio abbiamo molte partite che sono importanti da qua soprattutto chiamiamoli impropriamente scontri diretti però sono squadre che sono chiaramente in una probabilmente imbischiati come noi nel nel discorso salvezza e è chiaro che dovremmo tirare una linea con simone di battista che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro perché costruire da zero una squadra soprattutto in una chiave presente ma anche futura perché qua a differenza e questo ci tengo a puntualizzare a differenza magari di costruzione di altre squadre che sono ormai storiche in questo campionato che in questo campionato sono storiche fare le squadre per salvarsi quindi con lo stampino in qualche maniera costruiscono la squadra noi avevamo l'onere e la necessità di costruire qualcosa che non fosse relegato esclusivamente a una salvezza momentanea ma anche al dover pensare a qualche futuribilità quindi è chiaro che non possiamo secondo me emulare copiare modelli di altre squadre costruite per salvarsi perché ormai hanno quell'ossatura lì quell'intelatura lì quegli stessi giocatori lì e pressoché parliamoci chiaro lottano qua tutti gli anni sempre per quell'obiettivo lì quindi il piacenza deve avere un percorso a mio modo di vedere come abbiamo sempre detto diverso chiaramente concentrandoci sul presente quindi le scelte sono state dettate di maniera diversa questo lo dico perché se non sembra che paroghianiamo sempre noi aver fatto delle squadre più più deboli più scarse con più giovani con meno giovani con più con delle scelte diverse da quelle che sono le altre squadre che costruiscono sempre squadre per salvarsi e per rispondere alla tua domanda dico che è chiaro che la linea la cominceremo a tirare dal metà del mese di dicembre dopo che avremo giocato con diciamo un bel nucleo di partite capiremo dove andiamo dobbiamo andare a puntellare la rosa in quei reparti che che ci avranno dimostrato difficoltà se sarà la difesa perché prenderemo troppi gol sarà lì se sarà la porta sarà la porta se sarà l'attacco sarà l'attacco se chiaramente le scelte i giocatori che oggi abbiamo per un motivo per un altro o ripeto anche per il covid non avranno performato questo penso che sia una cosa scontata oggi dobbiamo cercare di essere più bravi a non prenderli gol o a ridurre quella quel gap perché è un campionato dove per salvarti devi calcolare anche i punti quindi pareggiare in casa contro la propatra per me sarebbe stato un grande punto non due punti persi ecco prima di salutarci e ringraziare per essere stato qui con noi anche questa sera ti faremo un'ultima domanda abbiamo visto appunto un altro riscontro di altre positività se potevi darci qualche informazione in più in mezzo su come si sta evolvendo la cosa certo 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 bene innanzitutto volevo chiudere leggevo qualche messaggio è arrivato chiaramente la partita alessandra non è una partita che noi dovevamo vincere però chiaramente siamo vediamo le cose risultati in una logica diversa rispetto agli ultimi anni quindi chiaramente venirci con magari qualche punto in più in classifica e perdere alessandra abbia fatto un effetto diverso da da quello che poi uno legge che la classifica che è quella che chiaramente leggiamo un po tutti anche se non vogliamo ammetterlo la situazione positiva è molto semplice noi abbiamo oggi sei positivi sette positivi scusate calcolando chiaramente i due precedenti positivi e abbiamo eseguito dei tamponi oggi perché a seguito di ogni positività l'asl tramite l'ufficio di igiene pubblica convoca tutti i contatti diretti che non sono altro che gli stessi giocatori compagni dei ragazzi per verificare se questo venedetto virus è passato da da una persona all'altra e quindi il numero di positivi a seguito dei tamponi di oggi posso più o meno essere aumentato questo rischio è latente enorme perché come purtroppo questo virus bastardo e questo è il termine purtroppo da usare a un tempo di cova cova giorni quindi io ho il tampone di oggi potrei essere negativo ma magari fra qualche altro tampone potrei essere positivo vi dico solo che sono ragazzi che fanno casa campo campo casa non vanno ai centri commerciali perché in quota parte sono chiusi non vanno ai cinema non vanno in discoteca perché sono chiusi non vanno in ristorante perché sono chiude quindi contrarlo purtroppo è veramente molto facile quindi la paura è che chiaramente questo numero di di positivi possa purtroppo aumentare ci auguriamo di no ma la società ripeto più di quello che sta facendo a livello di prevenzione non può fare c'è da sperare questo e chiaramente questo avrà delle ripercussioni in logica della partita di domenica perché di scusate di sabato perché è chiaro che un numero alto di positivi con magari anche dei portieri coinvolti potrebbe anche provocare una spostamento della partita cioè una non disputa della gara questo è un famoso bonus di cui abbiamo possibilità di utilizzare potrebbe essere un bonus richiesto potrebbe essere per conseguenza del numero dei positivi anche un rinvio d'ufficio da parte della lega che tra un certo punto di vista ci terrebbe un bonus in più dall'altro chiaramente ci farebbe accumulare recuperi in un calendario poi di dicembre che sarebbe affollato di partite un accanto all'altra con ripeto come dico prima come dicevo prima gare importanti evidentemente molto importanti ecco perché non dobbiamo secondo me perdere di vista come leggo anche qualcuno che scrive il percorso che dobbiamo fare noi dobbiamo salvarci quindi dobbiamo arrivare anche all'ultima giornata raccogliere quel numero di punti necessari per farlo è una dimensione che non ci siamo mai trovate ad affrontare anche questa è un'altra piccola difficoltà che che si ha perché bisogna anche essere abituati rispetto ai nostri avversari e ma ripeto in questi momenti bisogna tenere il temo il timone ben dritto la barra ben dritta come dice qualcuno avere coraggio vedere sempre qualcosa in più degli altri avere un po di fortuna e uscire da questa situazione che ripeto io sono penso sempre che le situazioni difficili ti lasciano sempre qualcosa per il futuro quindi e noi ci deve questa situazione ci deve fortificare sono sono molto convinto che una situazione del genere ci faccia diventare ancora più più maturi più più consapevoli e direi anche più esperti cosa che cosa che serve quindi oggi direi che sentiamo la vicinanza il calore dei nostri tifosi della città di quello che rappresentiamo di quello che abbiamo come responsabilità di mandare avanti lo sport il calcio in via continuativa mando un abbraccio un grande abbraccio a tutti quegli sport che non sono il calcio comunque che sono il calcio che vivono momenti difficili che hanno tanti positivi hanno dovuto interrompere le attività e quindi dico sempre che siamo dei privilegiati a fare qualcosa oggi con la massima sicurezza col massimo controllo e soprattutto rappresentando lo lo tema che vedete alle mie spalle e che qualcosa di importante lo stiamo rappresentando in uno dei momenti storici penso peggiori che ci siano da dal dopoguerra in poi perché francamente ripeto non non sto cercando piangina sto cercando non sto facendo il piangina sto facendo facendo capire che sicuramente è un momento peggiore per affrontare questa cosa questo momento storico il coinvolgimento la lontananza vedere uno stadio vuoto è veramente è veramente difficile però ripeto ma è un'esperienza che ci mancava che ci servirà sicuramente allora ringraziamo con il direttore generale marco shop perché è fantastico ci manca un po anche quel quel ci comporta anche sempre un po sentire i suoi commenti la sua passione cioè poi è bello sicuramente dialogare con persone che il piacenza del calcio ce l'hanno a cuore soprattutto che capiscono i momenti perché oggi bisogna contestualizzare le cose no e quindi penso che d'andrea sia una mi vada dato il merito che di di essere una persona che sa contestualizzare bene dar dei giudizi che sono sempre piacevoli da poi di continuare a sui quali di poter dialogare grazie grazie mille il direttore marco grazie mille direttore andrea rimaniamo ancora io e te un attimo facciamo un punto per introdurre il nostro prossimo ospite su quello che ha detto il direttore diciamo tanto possiamo immaginare che sabato non si giocherà cioè ci sono direi grandissime possibilità che non speriamo non per una scelta della lega in quel caso vuol dire che abbiamo ancora altri positivi quindi non ce l'auguriamo ma probabilmente per una scelta nostra ci ha fatto capire anche che probabilmente c'è un problema di portiere quindi facilmente sabato non si giocherà stiamo in attesa però diciamo che quella potrebbe essere la logica è un piacenza che deve per forza ritornare a avere le caratteristiche di tre settimane fa e deve ritrovare al cento per cento il suo allenatore questo è la verità a capo del suo staff tecnico che è stato fondamentale solo così possono crescere tutti gli altri giovani che sono quelli che per adesso hanno giocato meno e che sono quelli che devono dare un'alternativa ai giovani che fino adesso hanno fatto bene e non è scontato sai chi potrebbe essere particolarmente dispiaciuto se non si dovesse giocare la partita sabato vai il nostro prossimo ospite perché francesco renolfi tu forse non lo sai ma esce dalle giovanili proprio del novara francesco giusto sì giusto un buonasera a tutti e grazie per l'invito hai visto come sono preparato sono preparato tu hai visto che assist ho dato io però lì che c'è infatti guarda siamo una coppia guarda davanti secondo me qualche gol lo facciamo il calcetto possiamo appena finisce il mio infortunio se possiamo francesco ciao benvenuto a casa piace intanto ti chiedo grazie subito piemontese giovanili del novara l'anno scorso a borgosesia debutto a titolare ad alessandria parete un po sfortunata per risultato però che emozione è stata per te sì è stata una grande emozione sicuramente la partita è andata ora dobbiamo pensare alla prossima però comunque avrei preferito ci fossero più persone ci fosse il pubblico però sicuramente l'emozione dell'esordio da titolare nei professionisti è molto bella la partita è stata stata tosta l'avversario lo conoscevamo era un avversario tosto difficile da affrontare abituato a questa categoria e con alcuni giocatori abituato a categorie anche superiori e purtroppo i dettagli e le occasioni ci hanno ci hanno voltato le spalle purtroppo abbiamo perso ma sicuramente ci rifaremo se non è sabato già a partire dalla prossima partita comunque ecco francesco io ti faccio una domanda tu hai parlato di giocatori abituati alla categoria questo è il tuo primo anno invece in serie c hai fatto il salto l'anno scorso a serie di due borgosesi se non sbaglio hai fatto 22 partite su 22 correggimi se se sbaglio una macchina stasera non sbaglio non sbaglio una come come è stato il punto il salto dalle giovanili alla di adesso i professionisti intanto allora sicuramente l'anno in serie di mi mi ha insegnato molto mi ha lasciato davvero tanto il calcio tra i grandi è molto diverso rispetto a quello nel settore giovanile perché comunque inizi a capire che il risultato la domenica conta inizia a vivere di quello e soprattutto lo sto notando quest'anno più che l'anno scorso perché comunque il salto principale secondo me tra la serie di e la serie c è che qua capisci che devi stare concentrato tutto il giorno devi pensare a quello che devi fare non basta limitarsi alle due ore dell'allenamento giornaliere ma devi essere sempre sul pezzo e poi sicuramente le difficoltà di questa categoria sono che trovi giocatori esperti con con tante presenze appunto tra i professionisti e le difficoltà sono sia fisiche che che il ritmo è molto più alto rispetto che in serie di quindi è più complicato ovviamente però l'anno in serie di mi ha lasciato molto e ora sono qui e voglio voglio migliorarmi a partire da da quest'anno Andrea lasciate a Francesco sì Francesco il tuo rivale di ruolo è Visconti ovviamente siete due giocatori che hanno o comunque occupano lo stesso spazio ecco se dovessi descrivere le caratteristiche tue e quelle di Visconti dove avete punti in comuni e dove siete diversi ma allora sicuramente lui lui è più forse più rapido nel breve di me più veloce eh io qualche centimetro in più eh fisicamente sono un po' più forte però eh siamo entrambi mancini ci troviamo bene a giocare in quel ruolo e entrambi non non abbiamo fatto tutto il percorso del settore giovanile e poi fino alla io l'anno scorso in serie di eh giocando terzino ma eravamo entrambi delle ex mezzali o comunque centrocampisti quindi comunque ci piace giocare ci piace attaccare e comunque ci stiamo ci stiamo trovando bene uno dei ragazzi con cui ho legato di più eh niente senti ma tu in un eventuale difesa a tre quindi a fare il quinto di sinistra senza problema. Sì l'anno scorso a Borgosesia abbiamo iniziato e abbiamo giocato come stiamo giocando quest'anno qua a Piacenza con la difesa quattro e tre centrocampisti e poi da da dicembre in poi siamo passati con la difesa tre io mi sono trovato bene a fare il quinto. Anche perché tu hai passato da esterno alto tra l'altro vai vai Nic. No dicevo che appunto Francesco tra l'altro è un passato da esterno alto appunto per quello. Sì sì ho fatto ho fatto sia l'esterno che la mezzala quindi comunque mi trovo bene anche a fare il quinto di di centrocampo appunto. Qual è il giocatore della Rosa quindi dei tuoi compagni di squadra quello che ti dà più consigli? Ma sicuramente io chiedo consigli chiedo di essere aiutato perché appunto fare fare il terzino in questa categoria con giocatori esperti scaltri soprattutto in attacco non è non è non è facile. Sicuramente parlo tanto con con Mattia Corradi che che anni appunto che è qui ma in generale chiedo consigli a tutti e parlo parlo con tutti. Bravo Franci parla con tutti così almeno se anche teniamo anche saldo lo spogliatoio no. Scherzi a parte allora settimana prossima sabato facciamo così se ci dovessi giocare c'è lo trovi in Novara. Trovi in Novara tu hai scuola con città dei giovanili intanto come state preparando l'ipotica partita con Novara così stai facendo l'allenatore e poi per te che emozione è tornare a giocare da avversario nella città piemontese? Allora sicuramente sì è una è una grande emozione e ci sono anche ho sentito in questi giorni dei ragazzi che che adesso sono appunto in prima squadra del Novara e mi farebbe piacere rincontrarli però aspettiamo appunto non sappiamo noi ci stiamo preparando bene e oggi appunto abbiamo iniziato a preparare eh la partita eh loro hanno cambiato da poco l'allenatore e non sarà facile non sappiamo ancora eh alcune cose alcune loro assenze però comunque è importante rimanere sul pezzo e dare e provare a ad ottenere punti e risultati perché comunque dopo due sconfitte senza segnare subendo tanto è importante tornare a vincere e o comunque ottenere punti perché adesso la classifica come diceva prima il direttore non la guardiamo però è importante appunto fare punti al più presto e uscire da questa situazione. Andrea se non hai altre domande per Francesco ti lascio andare anche doppio. Franci grazie mille di essere stato con noi mi raccomando ci vediamo presto sabato oppure no comunque ci vediamo. Grazie grazie mille. Ciao Franci. Buona serata. Grazie mille. Andrea rimaniamo qua io e te un attimo prima di salutarci e passare comunque al ad altro rispondiamo un po' di domande appunto. Andrea Piva ci chiede che l'Alessandria ma anche contro la Propatria ha notato che giocando senza prime punte si fa una densità incredibile al centrocampo non si riesce mai ad andare in profondità inoltre è mancato il centroavanti che si tenga sulla palla e faccia scegliere la squadra. Andrea ti rispondiamo se ti posso dire la mia secondo me le due cose però vanno un po' contro. Se giochi sugli esterni il centroavanti che ti tiene la palla non lo metti e viceversa se cerchi di fare la densità in centrocampo metti un altro a far bohapotest intasare un po' le cose ma poi lasciamo che sia Andrea a rispondere sono due affermazioni secondo me che vanno in controtendenza uno con l'altro atticamente. E Giuseppe Pizzamiglio. Ciao Giuseppe sei tornato mi sei mancato durante due settimane perché senza di te io leggo sempre i tuoi commenti. Dice che è troppo facile fermare Piacenza perché raddoppiano su Parma e ti lasciano andare sugli esterni visto che poi non hanno nessuno che faccia la punta centrale. Tu come la vedi questa situazione? Allora partiamo dalla prima osservazione. La mia premessa è che rispetto a quanto ho letto io non ho visto sta grande Alessandria. L'Alessandria non mi è sembrata quella squadra troppo più forte del Piacenza. Questa è la premessa. La differenza secondo me in negativo pur facendo un passo avanti rispetto a quella propattica l'ha fatta il Piacenza. Questo dal mio punto di vista. L'osservazione è che se tu giochi senza punte come ha giocato come punte di ruolo cercando di passare sugli esterni come voleva fare Manzo il vero segnale è che in questo momento non ti fidi delle punte che hai. Tu pensi di non avere le prime punte nella condizione di poter essere titolari. Questo è il vero problema di questa scelta secondo me. Altrimenti per il tipo di gioco di Manzo una prima punta centrale è fondamentale. In questo caso non c'è nessuno e ce l'ha detto anche nell'intervista che ha fatto alla fine della partita che ritiene in condizione di poter fare queste cose. Per quanto riguarda quello che dice Giuseppe sono d'accordo. Il problema in questo momento è che noi non abbiamo un piano B, ce l'abbiamo sicuramente, avremo anche il piano C, ma nel piano B e nel piano C in questo momento sono talmente odiati da poter creare un problema alla squadra avversaria. Questa è la verità. Se noi probabilmente fossimo rimasti 0-0 con l'Alessandro e al primo tempo non è che si erano create tante cose e potremmo essere andati anche bene senza grossi problemi perché la squadra stava anche giocando. E' che quando poi dobbiamo creare gli altri che ci aspettano diventa veramente molto molto complicata. Per cui abbiamo bisogno di Manzo che durante la settimana migliori un po' di giocatori, cioè quelli che fino adesso non hanno ancora risposto e soprattutto ci dia delle alternative. Tutto lì perché se no gli altri ci mettono in condizione di non giocare. Ecco Giuseppe appunto parla sul fatto che il misto ha detto che il vero Maritato si potrà vedere solo a gennaio. Giuseppe ovviamente è un'iperbole nel senso di dire che Maritato è un giocatore che è rimasto fermo abbastanza a lungo. Come ti ha già detto il direttore prima abbiamo risposto sul fatto che avrà minuti con continuità e quindi potrà sicuramente avere più minuti nelle gambe appunto per quello. Sul discorso di Maio invece che dici secondo me dire che hai rifatto la preparazione perché è positivo mi sembra un po' eccessivo. Francesco comunque è un giocatore che è in foro, ha avuto un piccolo infortunio, sì però da qui a dire che hai rifatto la preparazione aspettiamo di vederlo in campo e vedere come sarà. Comunque le punte ci sono appunto dicevi andrei anche te, il discorso è anche un po' il rimescolare anche uno stato tattico diverso perché comunque con Lecco se ci pensi paradossalmente le punte c'erano le potrebbero mettere in campo ed è funzionato molto bene. Quindi secondo me è anche un discorso di situazioni. Poi correggimi se sbaglio. No, 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 è chiaro. Allora la partita di Lecco è stata la partita perfetta anche perché ogni volta che tirava in porta faceva i gol ma la squadra ha giocato molto bene e comunque abbiamo giocato con una punta e dietro Corradi da questo punto di vista. Quindi un riferimento c'era. Quello che ha convinto più di tutti fino adesso è Maio davanti. Il problema perché poi dopo la sfiga ci vede benissimo, scusate il termine, il problema è che lei ha avuto pochissimo. Prima era infortunato, poi è rientrato, poi si è fatto male, poi gli è venuto il covid, povero ragazzo, è chiaro che ci sono anche delle circostanze esterne che non sono quelle giuste. In questo momento sulla carta il titolare è lui perché è quello che ha fatto le cose migliori fino adesso. Visto, purtroppo ha giocato poche partite e quindi bisogna aspettare in un campionato strano di riavere le condizioni. Io mi auguro che le problematiche che noi abbiamo adesso gli altri le avranno in un momento molto più decisivo del campionato perché questa è la verità. Se gli altri ce l'avranno più avanti, noi le abbiamo già passate adesso, auguriamoci che sia così, cosa vi devo dire, perché prima o poi a tutti capiterà. Non ci sono isole felici. Paolo Pagani ti chiede, poi concludiamo perché oggi siamo andati un po' lunghi, per te, quando ti saranno disponibili, qual è l'attacco titolare? Io giocherei con una punta sola Maio e dietro Gonzi e Corradi. Io giocherei così. Allora, io ti dico che, come mi ha detto un giornalista citando che una volta Gianni Mura, quando il grande Gigi Canico a Piacenza gli disse di venire a vedere i ragazzi che si allenavano, Gianni Mura rispose, sì ma io quando vado al ristorante mi chiede allo chef di vedere come cucina, mi interessa il piatto finale. E questo può essere vero. Però io vi garantisco che vederli in allenamento, vedere i ragazzi come si impegnano, io onestamente non saprei chi avere una scelta titolare, ma perché secondo me ci sono tanti ragazzi giovani che se esplodono, esplodono. Io penso a Lorenzo Babbi che ha fatto vedere cose molto belle, non ne stiamo parlando, Maio che ecco è sicuramente una punta incredibile, Mattia non scopro certo io, Gonzi non scopro certo io, Maritato è un attaccante che è fermo da un po', però comunque ha dei numeri importanti per la categoria. Secondo me vi dico, prima vediamoli tutti in forma e poi possiamo decidere a parlare un attimo. La domanda credo di Paolo mi hai detto tu e noi abbiamo risposto dicendo la fotografia adesso, poi è ovvio che strada facendo può cambiare qualsiasi cosa. Ad oggi io farei così se avessi questi giocatori, poi io, anch'io, siccome me la disse anche me Gigi Cagni, io gli risposi non quella del ristorante ma quella risposta del teatro, dicendo mister io però al teatro non vengo a vedere le prove e vengo a vedere lo spettacolo. E quindi c'è del vero anche quello che diceva Gigi Cagni, però insomma non sono uno di quelli che può seguire tutti gli allenamenti. Detto questo, alla domanda io ti rispondo così. Ci sono io tranquillo a seguire gli allenamenti per te, non ti preoccupare, se hai bisogno sono là io, quindi chiedimi pure e ti faccio sapere. Andrea ti ringrazio, ti saluto, ci sentiamo settimana prossima, sperando di giocare sabato, se no ci risentiamo per la prossima settimana. Grazie come sempre, un piacere a tutti, ciao ciao, ciao Andrea. Io prima di lasciarvi vi lascio in compagnia del nostro sponsor Italy che ha deciso di manciarsi un messaggio oggi a Casa Piace. Il mio piacere è ricordare che l'Italia è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 e che è possibile farsi portare la spesa a casa, direttamente a casa quindi più comodo di così, non si può chiamando il 342 844 7536, ve lo ripeto ancora il 342 844 7536. Vi lascio in compagnia del video dell'Italia, da Nicola Renale e tutti, ci vediamo un settimana prossima, ciao! Da Italy Piacenza è arrivato il Natale, un Natale di tutto rispetto, buono per il gusto, buono per la terra, buono per tutti, tutti i giorni. Vieni a trovarci e a scoprire la nostra selezione di pandori e palettoni, tutti i giorni dalle 9 alle 20. Se si incerti del regalo perfetto, vieni a trovarci, abbiamo 19 pacchi con il meglio di prodotti in o gastronomici italiani, scoprigli tutti! E se vuoi creare un pacco personalizzato, da Italy puoi, scegli i prodotti in tutto il nostro negozio e insieme tratteremo a confezionarli creando un regalo davvero speciale. E aspettiamo anche le notteca, per scoprire tutte le nostre entichezze, bianco, rosso, rosè e non dimentichiamo le nostre bollicine, inversione magnum per questo Natale di tutto rispetto. E non dimentichiamoci dei nostri prodotti freschi che puoi trovare da Italy, ci sono i prodotti DOP, coppa, salame, pancetta e inoltre abbiamo il suo messa e il tartufo che puoi trovare al nostro banco solo nel periodo natalizio. E aspettiamo!